Buongiorno a tutti, per me è un onore fare gli onori di casa, scusate il bisticcio di parole, porto i saluti del Presidente Massimo Inguscio che è partito questa mattina per l'Armenia quindi non è potuto presenziare questa giornata e il Direttore Generale si è svegliato con il 39 di febbre questa mattina e quindi è a casa influenzato e quindi per me è veramente un piacere e un onore fare l'introduzione a questa giornata organizzata dalla Protezione Civile per la presentazione del primo anno di attività del progetto PON dal titolo verso una governance più forte per la riduzione del rischio. Questi risultati conseguiti appunto nel 2018, questo programma realizzato dalla Protezione Civile nell'ambito del programma operativo nazionale di governance e capacità istituzionale 2014-2020. Il CNR ovviamente è ben felice di ospitare queste attività della Protezione Civile in quanto da anni c'è una forte collaborazione tra CNR e Protezione Civile in quanto il CNR stesso ma molti istituti del CNR sono centri di competenza della protezione civile e questa collaborazione è governata da accordi quadro e accordi poi con i singoli istituti ma già da anni il CNR appunto collabora con vari programmi e attività di ricerca a partire dai grandi terremoti che ci sono stati in Italia dal 1980 a poi fino purtroppo a questi anni 2016 e 2017. Io mi fermo qui per recuperare anche un po' di tempo e passo subito la parola a Mattia Fantini, sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione. Grazie a tutti di essere qui presenti. Uno penso che sia sufficiente. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Per me è un onore, sono davvero molto felice di essere qui con voi. I temi che trattate, ossia il rischio sismico, il dissesto idrogeologico, per noi sono temi che sono molto cari. Sono cari non solo a me ma sono cari anche a questo governo, sono cari anche al gruppo da cui provengo. E anche se sembra che siano assolutamente distanti tra loro, io sono sottosegretario da pubblica amministrazione, mi occupo di pubblica amministrazione, mi occupo di razionalizzazione, mi occupo anche di digitalizzazione. Sono argomenti che sono prettamente connessi tra loro. E volevo, quando sono stato invitato a questo convegno mi sono subito documentato, mi sono cercato di capire di che numeri stiamo parlando. Sono numeri che sono sicuramente importantissimi, sono numeri rilevanti. Il rischio idrogeologico ci costa 3,5 miliardi l'anno. Dal 1944 ad oggi l'Italia ha speso circa 300 miliardi per fronteggiare i danni provocati da terremoti, da eventi franosi ed alluvionali. Facendo due calcoli sono 3,5 miliardi l'anno. Tra il 1944 e il 1990 la media è stata di 2,8 miliardi l'anno. Tra il 1991 e il 2009 4,7 miliardi l'anno. Mentre dal 2010 al 2012 la media è cresciuta ancora a 6,8 miliardi l'anno. Diciamo che c'è una spirale negativa che noi dobbiamo interrompere. La popolazione italiana è esposta a un rischio idrogeologico e sismico supera i 27 milioni di persone. Un'enormità. Complessivamente sono oltre 7 milioni le persone che risiedono nei territori vulnerabili. Oltre un milione vive in aree di pericolosità da frana, elevata e molto elevata, e più di 6 milioni in zone di pericolosità idraulica nello scenario medio, ovvero aree alluvionali per eventi che si verificano in media ogni 100-200 anni. Insomma, ce lo siamo sempre detti, io mi sono occupato di questi temi, anche come ingegnere, anche quando mi occupavo delle imprese di turismo. L'Italia è bellissima, è un nostro patrimonio di cui tutti ne andiamo orgogliosi, ma è estremamente facile. E dobbiamo per questo prenderci cura di lei. A partire dai nostri 8 mila campanili è a rischio il 91% dei comuni italiani. La causa principale di questo peggioramento si conferma il comportamento dell'uomo. La cementificazione, l'urbanizzazione selvaggia, l'abusivismo edilizio, il sboscamento, la mancata manutenzione dei costi d'acqua stanno rendendo i suoi italiani più poveri e quindi vulnerabili agli agenti atmosferici. C'è poi anche la piega degli incendi boschili, che indeboliscono la capacità statica dei terreni. L'ambiente spesso è prega delle mafie, quelle che sversano i rifiuti. Le mafie costruttrici che bruciano boschi per lottizzare. Le mafie dei Pasquale che danno fuoco alla Sicilia. Per questo la salvaguardia dell'ambiente, la lotta alle mafie e alle corruzioni sono entrambi preoccupazioni importantissime che stanno ai punti principali nell'agenda di questo governo. Secondo i dati del colpo forestale, dal 70 a oggi è andato in fumo il 46% di superficie boscata e il 64% di superficie non boscata. Sono danni irreparati. Complessivamente il 16,6% del territorio nazionale è mappato nelle classi a maggior pericolosità per frane e alluvioni. Quasi il 4% degli edifici italiani si trova in area di pericolosità, da frane elevate e molto elevate, più del 9% in zone alluvionali, nello scenario meglio. Le industrie e i servizi posizionati in area di pericolosità di frane elevate, molto elevate, sono quasi 83 mila, con oltre 217 mila persone esposte a rischio. Noi non vogliamo più vittime innocenti di frane e di crolle. Noi non vogliamo mai più un rigopiano, mai più per le stragi di persone travolte in casa, come è successo qualche mese fa in Sicilia. E per questo questo governo sta veramente correndo ai ripari. e lo dimostra anche l'operato del ministro Costa, che dopo le ultime alluvioni ha annunciato un piano Marshall contro il dissesto idrogeologico. 6 miliardi e mezzo di soldi veri per intervenire subito, per evitare di arrivare alle emergenze. Ecco che possiamo investire nell'ambiente e creare una grande politica degli investimenti pubblica, che abbia natura antirecessiva e anticipa. E per questo, e lo dico anche con molto orgoglio, stiamo lottando contro la Commissione europea, perché tutti gli investimenti che questo governo sta mettendo per contrastare il rischio idrogeologico, tutti gli investimenti che sta mettendo, proprio dedicati alla protezione dell'ambiente, che vengono quantomeno scorporati dal deficit, perché sono degli investimenti che non possono stare nel rapporto del FCP. E oltre a questi problemi idrogeologici, di carattere generale, in Etiana abbiamo anche il tema del consumo del suolo. Città che si espandino a macchia d'olio, distruggendo il verde, impermealizzando il suolo. E questo io lo dico anche da Veneto, da Veneto, quindi da Uomo del Nord, dove io sono assolutamente pro allo sviluppo, non assolutamente pro alle imprese, però molto spesso, come voi sapete, la cementificazione è un processo irreversibile. E quindi dobbiamo cementificare, dobbiamo urbanizzare, dobbiamo industrializzare, sempre con molta attenzione, con molta parsimone, e soprattutto fare delle scelte lungi miranti. Quando io parlo di questo governo, e l'avete sentito anche dai media chiamarlo come governo del cambiamento, perché l'ambiente per noi è una cosa importantissima. E appunto vi dicevo e chiudo anche il mio intervento come sottosegretario della pubblica amministrazione, faremo un grande monitoraggio anche dei fondi europei per cercare di investirli al meglio, per cercare di investirli nel modo corretto, proprio perché possono essere più, che possono corrispondere sempre di più alle esigenze del territorio, affinché siano sempre bene spesi. E come diciamo, come amante della digitalizzazione, quindi che credo nell'interoperabilità, nel fatto della razionalizzazione dei database, nel fatto che si possa fare qualsiasi procedura a livello digitale, questo comporta il fatto che i vigili del fuoco, protezione civile, siano tutti connessi alla stessa base di dati, in modo che la comunicazione tra loro sia davvero istantanea. Perché non è possibile che nel 2019, 2020, le varie forze non riescano a comunicare tra loro. la tecnologia c'è e dobbiamo assolutamente metterla in pratica. I finanziamenti ci sono anche dal punto di vista europeo e dobbiamo usarli al mondo. Grazie a tutti e buon lavoro. Ringrazio Mattia Fantinati e con vero piacere che do la parola a Angelo Borrelli, capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per essere qui oggi a fare il punto insieme a noi delle attività portate avanti nell'ambito del progetto PON Governance. Ringrazio ovviamente il Sottosegretario Fantinati per la sua presenza e anche per le parole che ha pronunciato nel corso del suo intervento, che vanno nella linea delle attività che il Dipartimento porta avanti. Perché quella del Dipartimento della Protezione Civile è un'attività che riguarda il coordinamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile e in questo senso noi vogliamo e stiamo operando perché l'intero Servizio Nazionale che è costituito dalle componenti e dalle strutture operative, quindi tutti quanti i ministeri, le regioni, i comuni, le province, quello che rimane delle province, ma le strutture operative, forze armate, forze di polizia, il volontariato, si muove in modo coerente con quelle che sono le direttive che vengono emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la riduzione del rischio. Voglio anche ringraziare ovviamente il CNR e nello specifico Paolo Messina che ha collaborato da sempre con noi che oggi ci ospita in questa splendida sala e continua a collaborare anche nel programma PON Governance insieme con la Fondazione Cima di Savona. Ringrazio anche Antonio Caponnetto e Riccardo Monaco della Agenzia di Coesione Territoriale che hanno creduto sin dall'inizio insieme con la Ludovica Agrò in questo ruolo del Dipartimento che è quello che facciamo in ordinario per la riduzione del rischio. Ringrazio anche il Presidente della Commissione Grandi Rischi, Gabriele Scarascia Mugnozza e tutti quanti responsabili dei centri di competenza e voi di essere qui oggi. Questo progetto nel momento in cui era partito e partito per il Dipartimento era da un lato una scommessa e dall'altro era un investimento per il futuro. Scommessa perché? Perché nel corso del tempo il Dipartimento era rimasto un po' a guardare sul panorama degli investimenti e delle risorse europee e abbiamo ritenuto invece che visto che è quello il canale di finanziamento per tutte le attività di riduzione del rischio il canale che dovevamo portare avanti. Quindi abbiamo sperimentato questa iniziativa e da questa iniziativa che sta andando molto bene noi ci siamo proposti io ho rappresentato alla Ministra Lezzi di immaginare quale programma operativo nazionale più importante così mi è stato detto parlando anche con il Ministro della programmazione 2021-2027 delle risorse destinate alla riduzione del rischio. Riduzione dal punto di vista degli interventi infrastrutturali da un lato strutturali e dall'altro per interventi non strutturali. Le finalità del PON le conoscete tutti sono quelle di migliorare le strategie di riduzione del rischio nel campo del rischio sismico, vulcanico, del rischio idrogeologico e idraulico attraverso il rafforzamento della governance dei diversi livelli territoriali della cooperazione e delle competenze del territorio. Questo si realizza nell'ambito di una strategia complessiva una strategia internazionale. Da ultimo gli accordi di Sendai. Voi ricorderete che abbiamo tenuto nel mese di novembre qui a Roma l'importante forum europeo per la riduzione del rischio dei disastri. È stato presiduto dal nostro Presidente del Consiglio di Ministri che è l'autorità politica di riferimento del sistema di protezione civile. E questo è stato visto anche a livello internazionale. Sottosegretari a tutti quanti voi come un'attenzione nel nostro Paese alle esigenze dell'ambiente della riduzione del rischio della salvaguardia delle vite umane. Quindi il nostro Paese sotto questo punto di vista si pone all'avanguardia nel panorama mondiale. Ovviamente noi al di là del forum coordiniamo quella che è la piattaforma nazionale per la riduzione dei rischi dei disastri è stata istituita a partire dal 2008 e la settimana prossima avremo un'importante riunione della piattaforma. È il luogo dove in qualche modo si decidono le strategie nazionali per la riduzione dei rischi dei disastri e le linee di intervento e di azione da portare avanti. Io ho anche accennato al Presidente del Consiglio di Ministri e credo che su questo tema ci debba essere un tavolo più alto un tavolo interministeriale un tavolo presiduto dal Presidente del Consiglio di Ministri e dai ministri competenti perché noi come protezione civile sistema di protezione civile siamo bravi a organizzarci e autogovernarci ma credo che la politica debba prendere le decisioni direttamente sulla base di quelle che sono le nostre attività istruttorie e le nostre proposte. Gli strumenti per portare avanti il PON lo sapete sono l'elaborazione di standard minimi che noi abbiamo elaborato la presentazione dei progetti standard la emanazione di linee guida voglio ricordare siamo partiti a partire dal 2008 per le linee guida per la microaglionazione sismica abbiamo elaborato poi le linee guida per le condizioni limiti di emergenza stiamo elaborando e lavorando sulle linee guida per la riduzione del rischio idrogeologico idraulico quindi si tratta di un'attività che nello specifico andiamo ad attuare nelle 5 regioni Puglia Campania Sicilia Calabria e poi a queste si è aggiunta la regione Basilicata che è entrata in corso nel progetto e noi abbiamo salutato favorevolmente questa entrata e ringraziamo ancora l'agenzia di coesione di averci anche consentito di far entrare la regione Basilicata partono da queste regioni il lavoro che stiamo facendo e si indirizza poi anche a tutte le altre regioni quindi quello che noi facciamo per queste regioni è il lavoro che sarà reso condiviso e reso utile anche per il resto delle regioni si tratta di un progetto che dal punto di vista finanziario è un progetto che non ha grandi risorse ma non ha bisogno di grandi risorse budget di questo progetto è 11 milioni e mezzo di euro abbiamo 140 persone impiegate in queste attività tra personale delle regioni personale ovviamente del dipartimento personale dei nostri centri di competenza che abbiamo dovuto per le regole europee selezionare sulla base di una gara e quindi in questa avventura li chiamiamo operatori economici ma bene pure così l'importante è che siano quelli che hanno le competenze il know-how per poter svolgere queste attività quindi nel corso della giornata di oggi i colleghi che interverranno vi renderanno i dotti di quelli che sono i progressi dell'attività del PON vi ringrazio ancora e ricevo la parola al padrone di casa Paolo Messina grazie Angelo do la parola a Angelo Caponetto direttore generale dell'agenzia per la coesione territoriale grazie desidero ringraziare sinceramente dell'invito ricevuto dal amico e collega Angelo Borrelli a nome del dipartimento della protezione civile non devo certo diciamo spendere molte parole per sottolineare quale grandissima meritoria funzione svolga il dipartimento e tutto il sistema della protezione civile per il nostro paese per i cittadini italiani non diremo mai abbastanza grazie per tutto quello che fanno e infatti quello che vorremmo è che dovessero probabilmente intervenire meno una volta determinate una volta che il rischio si sia verificato questo progetto che è inserito nel programma operativo nazionale per la capacità amministrativa ha appunto questo questo obiettivo che è molto importante che è veramente un obiettivo strategico quant'altri mai che è quello di permettere a tutto il paese di dare un po' una svolta nella propria azione di per fronteggiare i rischi che che corriamo noi credo che abbiamo siamo un'eccellenza del mondo in termini di protezione civile ma siamo invece ancora un po' carenti molto carenti sugli interventi in materia di prevenzione l'ha ricordato con i numeri eloquenti anche il sottosegretario che è intervenuto prima di me e dobbiamo fare prevenzione sappiamo che il nostro territorio è un territorio fragile abbiamo abbiamo rischi sismici abbiamo i vulcani io personalmente lo dicevo prima sono nato nella città che sta sotto il più grande ed ero anche ho personalmente vissuto l'ultimo terremoto che c'è stato nella notte di Natale perché mi trovo nella mia città che è Catania e bisogna però intervenire sulla sulla prevenzione lì c'è anche un fatto culturale secondo me noi italiani siamo grandiosi nel mostrare solidarietà velocità abnegazione quando si tratta di intervenire siamo molto meno accurati e attenti nel mettere in atto sia nella dimensione collettiva più ampia ma sia anche a livello spesso di comportamenti individuali quei comportamenti che servono anche a prevenire e ridurre il rischio quando l'evento catastrofico purtroppo si verifica un altro aspetto che mi piace sottolineare che è stato poi ricordato poco prima è anche che questo progetto cerca di lavorare sugli standard è una cosa di cui sono molto convinto e che secondo me è molto importante perché anche qui l'Italia ha da un punto di vista istituzionale un'architettura abbastanza complicata con tanti livelli di governo e quindi con delle risposte in termini di capacità amministrativa che non di rato sono diverse da regione a regione da territorio a territorio a volte da tipologia di ente a tipologia di ente definire degli standard operativi ridurre a denominatore il più possibile comune quella varietà fantasia creatività che sono degli aspetti positivi dell'essere italiani però che a volte comportano anche delle risposte molto diversificate e quindi dei costi di aggiustamento successivi quindi anche nel diciamo in un orizzonte più ampio non limitato a questo settore chi mi ha ascoltato già in altre occasioni sa che io insisto sempre abbastanza ossessivamente sul concetto di standard e anche come agenzia in materia poi più tecnica di gestione dei fondi e delle politiche di investimento stiamo cercando di lavorare per dare alla pluralità di soggetti questo tipo di servizio chiudo dicendo anche e condividendo quello che è stato detto l'importanza di lavorare sulla prevenzione e su questo sistema significa che noi dovremo anche diciamo per il futuro continuare a investire in questo settore infatti mi scuso non potrò seguire i lavori perché devo raggiungere appunto il ministro Lezzi e ci sono due temi importanti il primo di cui lei stessa ha parlato giusto ieri con la commissaria europea per la coesione vedere come creare un certo sistema di supporto alle regioni per accelerare la spesa in materia di interventi contro il distesso ideologico ci sono in realtà tra risorse europee ordinarie fondo sviluppo e coesione ci sono consistenti risorse programmate su questo settore secondo me c'è un pochino di dispersione per l'appunto nell'operatività e nell'efficacia quindi dovremmo cercare di dare un con la collaborazione che è stata chiesta è già stata confermata anche della commissione europea cercare quindi di lavorare in questo senso per dare un sostegno e riuscire ad accelerare questa spesa e poi il tema che è stato sollevato dal 2021 comincia il nuovo ciclo di programmazione è già in corso il negoziato sui nuovi regolamenti e anche sulla allocazione delle risorse ci sono delle scelte nazionali che cominciano già a maturare e a dover essere prese e io naturalmente non posso che essere d'accordo al 100% con quello che ha detto Angelo Borrelli sul fatto che questo è un settore su cui le risorse per la coesione devono essere investite in maniera molto consistente e anche con molta cura attenzione e accompagnamento da parte anzitutto dell'agenzia grazie ringrazio Antonio Caponetto e do adesso la parola ad Agostino Miozzo del Dipartimento di Protezione Civile responsabile della struttura dell'attuazione del programma PON Governance grazie grazie dottor Messina partirei nella mia breve nel mio breve intervento partirei proprio da quel momento di esposizione internazionale che il nostro paese ha avuto qualche settimana fa alla fine di novembre in quel forum già citato dal capo dipartimento Angelo Borrelli quel forum è stato un'occasione molto molto importante storicamente devo dire importante per il nostro paese per le attività di protezione civile che il nostro paese è in grado di rappresentare attività ben conosciute ben note è stato più volte detto siamo un'eccellenza è vero siamo un'eccellenza nella capacità di intervenire nella protezione civile nessuno ci contesta la nostra eccellenza di un sistema capace di far fronte ai momenti emergenziali è ben nota invece la nostra fragilità in quell'altro settore che è quello storicamente rilevante della prevenzione della previsione della cultura del rischio della cultura del rispetto del territorio storicamente è una cosa ben nota lo è io ho lavorato per molti anni a Bruxelles e ho condiviso ho visto nascere il sistema europeo di protezione civile in quel sistema anche in quel sistema ci è riconosciuta questa strana posizione di un paese capace di fare cose fantastiche valutate in maniera super positiva da tutti compresi i paesi del nord Europa la nostra capacità di fare operazioni con decine di migliaia di persone organizzare delle tendopoli che sono considerate a 5 stelle considerate dai tedeschi dagli svedesi da gente che è sempre molto assai critica e poco benevola nei nostri confronti quelle considerazioni però portano con sé storicamente appunto questa nostra debolezza anche a livello europeo la debolezza che noi conosciamo punti di criticità che sono ben noti e che sono stati ben discussi in questo forum Angelo Barrelli ha detto una cosa assolutamente importante quello che ha colto l'attenzione delle 53 delegazioni e di paesi 53 paesi che hanno partecipato al forum più organizzazioni internazionali che si occupano di temi di riduzione del rischio da disastri è stata l'attenzione politica che straordinariamente abbiamo potuto saputo rappresentare avere il presidente del consiglio all'apertura del forum avere un numero importante di ministri viceministri partecipare al forum è stata per l'Italia di fatto una novità ha rappresentato a questo tavolo internazionale qualche cosa di inaspettato significa che probabilmente e questi sono commenti che mi hanno fatto molti colleghi dell'Unione Europea probabilmente siete di fronte ad un cambiamento di rotta e ce lo auguriamo tutti sotto il segretario Fantinati lei ha detto delle cose importanti ha citato delle cifre assolutamente drammatiche che sono prodotte non di una responsabilità di un governo di un politico sono prodotte di un'eredità di decenni di distrazione di assenteismo di mancanza di attenzione vera attenzione politica a quelle che sono le politiche di riduzione del rischio del rischio mentre sui tavoli e nei vari fora che si sono che si sono susseguiti migliaia di volte abbiamo sentito come un mantra abusato prevenire è meglio che curare un dollaro investito in prevenzione ti porta a casa 200 300 500 dollari ti riduce però quel mantra enunciato raccontato in tutti questi fora poi quantomeno a casa nostra veniva immediatamente dimenticato perché poi la politica era un'altra cosa e diciamo sempre quando facciamo questi discorsi che di solito la prevenzione non fa vincere le elezioni investire in attività di prevenzione non ti dà grande ritorno politico e quindi è meglio la fotografia del politico sull'emergenza paga di più dal punto di vista mediatico che fare iniziative che poi producono benefici magari per quello che viene dopo di te e questo è molto frequente nelle piccole comunità i sindaci perché un sindaco dovrebbe investire quelle poche risorse che ha per fare prevenzione meglio fare la sagra della salsiccia i fuochi d'artificio perché quelli i cittadini li vedono subito e ti dicono che bravo che sei sindaco che buona sta salsiccia invece che fare formazione educazione cultura nella scuola nel territorio e in tutti gli ambiti nei quali noi abbiamo e ci confrontiamo quotidianamente perché questo è il vero dramma e la vera debolezza del nostro sistema debolezza che peraltro quest'anno abbiamo osservato e confrontato diciamo che noi siamo bravi a fare emergenza e poco bravi a fare prevenzione quest'anno è accaduto un episodio non c'entra molto con il dibattito di oggi ma lo voglio citare perché rende giustizia alla nostra storia e alle difficoltà che abbiamo affrontato parliamo di incendi boschivi sono già stati accennati noi abbiamo una storia di incendi boschivi in fondo sappiamo ormai cosa fare abbiamo in qualche modo assimilato e così metabolizzato la cultura di quello che è il problema il rischio degli incendi boschivi gli effetti degli incendi boschivi abbiamo delle politiche forti siamo capaci di intervenire la più grande flotta di aerei antincendio del mondo siamo bravissimi gli altri ci dicono quello che dobbiamo fare quest'anno accade è che abbiamo pochi incendi boschivi la Svezia va a fuoco e la Svezia paese straordinariamente tipicamente colto e capace di fare prevenzione si accorge che in quella grande cultura della prevenzione della cultura del rischio non aveva mai assimilato immaginato che un nuovo rischio gli incendi boschivi legati probabilmente in quel contesto ai cambiamenti climatici non voglio aprirne un dibattito però qualche cosa è successo perché improvvisamente quest'anno tutto il nord Europa è andato a fuoco la Svezia si è dimostrata un paese totalmente impreparato e noi i disgraziati questi scialtroni dei mediterranei siamo andati con i nostri aerei a dare una mano a spegnere gli incendi in Svezia questo rende giustizia probabilmente alle complessità le difficoltà del mondo della protezione civile per cui durante quel forum ci siamo resi conto che in fondo non ci sono professori che ci possono spiegare o che possono dettar legge poi le nuove emergenze le criticità il forum ha peraltro grazie al Presidente del Consiglio messo in evidenza uno di quei rischi nuovi che anche alle Nazioni Unite non erano per le Nazioni Unite non erano entrati nel dibattito i rischi dell'invecchiamento delle nostre strutture il Ponte Morandi è stato portato ad esempio il dramma del crollo del Ponte Morandi è stato portato ad esempio di un nuovo fronte di debolezza e di criticità dei nostri sistemi che appunto è l'invecchiamento dell'infrastrutture quindi non si parla solo di prevenzione dei disastri naturali ma dobbiamo aprire gli occhi e la prospettiva di investimento e di monitoraggio e quindi di previsione e prevenzione anche in questo strategico settore che sono appunto le infrastrutture un minuto per alcuni commenti che riguardano le politiche nazionali quello che stiamo facendo che facciamo che abbiamo fatto che sono a supporto e che in questo progetto si guardano e guardano a questo progetto che ha dei risultati estremamente interessanti e parlo politiche nazionali a livello locale soprattutto parlando di prevenzione e previsione penso e immagino e elaboro un attimo il pensiero su quelli che sono quello che è il nostro incubo quotidiano quello che Angelo Barrelli conosce come problema quotidiano i piani comunali di protezione civile che sono gli elementi il momento essenziale della cura del territorio e dell'interesse dell'attenzione del territorio sull'argomento prevenzione in termini quantitativi abbiamo raggiunto dei buoni risultati siamo vicini al 90% in termini qualitativi direi che questo 90% è molto meno alta percentuale perché un piano comunale non può essere un fascicolo cartaceo non può essere un obbligo dell'amministrazione di scrivere di compilare delle schede una volta che le hai compilate le metti nell'archivio comunichi alla regione che ti ha finanziato al dipartimento che vuole che tu faccia questi piani di aver fatto il tuo compilitino amministrativo e poi ti dimentichi di tutto il resto questo non è il piano comunale piano comunale significa condivisione significa informazione significa mobilitazione del tuo popolo del tuo cittadino significa condividere con il cittadino quelli che sono i rischi del tuo territorio il cittadino deve conoscere quelli che sono i rischi e che sono rischi ben noti per i quali basta semplicemente un momento di diffusione di spiegazione di condivisione vera per capire che cosa significa il piano comunale last but not least direbbero gli anglosassoni il tema della formazione della cultura la scuola ecco e qui siamo in un ambito nel quale ci auguriamo di avere abbiamo incontrato un ministro attento all'argomento con Angelo Borrelli abbiamo visto il ministro della pubblica istruzione che si è dimostrato questa persona pragmatica operativa che è andato al punto senza troppe teorizzazioni appunto di quei mantra scaduti e abusati e abbiamo immaginato un nuovo rapporto di comunicazione con il mondo scolastico la scuola è fondamentale lo sappiamo tutti quante volte vediamo quelle immagini che a me piacciono moltissimo e mi rendono nel contempo triste i bambini dell'asilo in Giappone di qualsiasi asilo a tre anni fare esercitazioni di protezione civile questi cresceranno con una cultura di conoscenza del rischio che è implicita che è insita quei ragazzi quando avranno 25 anni dovranno comprare o costruire una casa quella casa maledetta casa la faranno con dei criteri che sono criteri sensati antisismici se c'è il sisma in un luogo che non sia a rischio idrogeologico se c'è il rischio idrogeologico perché l'hanno maturato metabolizzato il concetto di rischio di conoscenza del rischio su questo noi dobbiamo investire e non possiamo come abbiamo fatto in tutti questi anni affidarci alla estemporanea disponibilità di un preside che è interessato semplicemente perché ha la moglie o il marito che magari ha fatto il volontario di protezione civile un professore che fa scienze che però si è entusiasmato dell'idea della protezione civile questa non può essere casualità di informazione e di comunicazione la cultura italiana deve nell'ambito più nobile della sua istituzione inserire questo aspetto come parte essenziale del percorso formativo del cittadino questo esercizio quello che stiamo facendo queste cose vorrebbe vorrebbe diffondere io ho condiviso con i colleghi che hanno lavorato in questi mesi i risultati i primi risultati e veramente ne sono rimasto affascinato mi è piaciuto moltissimo vedere quello che sta venendo fuori da questo primo PON governance e mi auguro che questo sia solo l'inizio di un cambio un vero cambio di rotta in quella che deve essere la cultura del paese di prevenzione di previsione di conoscenza dei nostri rischi grazie ringrazio Agostino Miozzo purtroppo il sottosegretario ci deve salutare che ha impegni lo ringrazio della sua partecipazione delle parole appunto molto belle che ha detto e della sensibilità che questo governo ha su questi problemi di protezione civile quindi rischio idrogeologico sismico e vulcanico grazie ancora e arrivederci do adesso la parola a Italo Giulivo entriamo più nel nel merito delle attività che vengono svolte nell'ambito di questo progetto PON governance con un intervento programma per la mitigazione dei rischi idro sismico vulcanico ai fini di protezione civile e attività nelle singole regioni buongiorno grazie Paolo Messina buongiorno a tutti e entriamo nel dettaglio delle attività del PON governance 2014-2020 protezione civile verso una governance più forte per la riduzione del rischio introduciamo i lavori ecco non va avanti un attimo ecco penso di sì è stato mio oggi ci credo ok grazie Fabrizio dunque diciamo introduciamo i lavori spiegando innanzitutto cos'è il PON è stato già detto che è un programma di supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ci concentriamo su quella che è la capacità istituzionale e quelle che sono il rafforzamento delle competenze territoriali il Dipartimento della protezione civile è il soggetto attuatore di un programma che viene realizzato in ambito di convenzione con l'Agenzia per la coesione il PON non è uno strumento per finanziare interventi strutturali per la riduzione del rischio non rende disponibili risorse umane alle regioni per far fronte a carenze di personale ma ne rafforza solo le competenze territoriali non realizza altre attività che per legge sono in capo alle regioni si è già detto che il PON vale 11,4 milioni di euro dal 2017 al 2021 il Dipartimento della protezione civile e il beneficiario è rivolto a Campania Puglia Calabria Sicilia e Basilicata che è entrata in corsa i nostri operatori economici che danno supporto tecnico-scientifico alla realizzazione delle attività del PON sono il CNR ICAG per la parte sismica e vulcanica e un'ATI costituita da Fondazione Cima Fondazione Politecnico di Milano Università delle Calabrie CNR IRPI e il CINID il Consorzio di Idrologia Italiana che come dire danno sicurezza del massimo delle competenze nelle materie oggetto del PON c'è una commissione tecnica interistituzionale che garantisce il partenariato diffuso tra i soggetti che partecipano al PON e ovviamente c'è la regia complessiva dell'Agenzia per la coesione territoriale per portare avanti le attività del PON si è dovuta mettere su un'organizzazione che è quella che vedete cioè c'è una struttura responsabile del programma che è presso il Dipartimento della Protezione Civile che si interfaccia con la commissione tecnica interistituzionale per il partenariato diffuso ma che ha un'organizzazione basata sia interna un'organizzazione sia interna al Dipartimento che degli operatori economici che poi si cala a cascada sulle singole regioni per poter fare delle azioni dedicate alle complessità e difficoltà che variano da regione a regione il Capo Dipartimento ricordava appunto una compagnia di 140 persone dedicate a sviluppare buone pratiche di prevenzione di protezione civile con oltre 130 linee di attività gli obiettivi sono appunto quello di definire una nuova efficace proposta di governance nelle aree tematiche rilevanti per la riduzione dei rischi avvalendosi del partenariato diffuso sia per la definizione delle politiche di intervento che per gli aspetti tecnici e di implementazione delle stesse rafforzare la capacità istituzionale e rendere efficienti l'azione delle regioni per la riduzione del rischio idrogeologico sismico e vulcanico raggiungere degli standard minimi su tutto il territorio attraverso un percorso che è quello di programmare gli interventi per la riduzione dei rischi e di creare una resilienza socio-economica questi sono gli standard che ci siamo proposti in un documento che il Dipartimento della protezione civile ha elaborato nel dicembre del 2015 questo percorso costituisce per noi il progetto standard progetto standard che è appunto quello di realizzare una programmazione di interventi e di modelli e criteri a supporto del decisore pubblico per la corretta ed efficace allocazione delle risorse disponibili ai fini della riduzione dei rischi allo scopo di facilitare l'assorbimento e l'impatto degli investimenti sostenuti anche con interventi di affiancamento istituzionale e avvalendosi di specifiche e alte competenze professionali per accompagnare i governi regionali nel processo di adozione e applicazione degli strumenti elaborati il progetto standard non è diciamo un qualcosa di nuovo ma è soltanto la introduzione e razionalizzazione di buone pratiche già nate nel discorso tra il Dipartimento e le Regioni e quindi i criteri per la microzonazione sismica le condizioni limiti per l'emergenza le attività svolte con l'articolo 11 e quant'altro l'attuazione dei progetti standard è peraltro calata nella realtà delle singole regioni in funzione di quella che è l'analisi degli specifici fabbisogni e dei contesti territoriali il progetto standard è articolato in sei fasi la prima fase è quella dell'individuazione dei contesti territoriali una seconda dello studio dei rischi pericolosità per singoli contesti l'analisi dei piani disponibili e come migliorarli la valutazione dell'operatività del contesto e la programmazione degli interventi necessari per rendere efficiente quel contesto questo sono diciamo così le fasi del progetto che vengono portate avanti realizzando delle linee di attività di cui quelle di tipo A sono di carattere generale sono analisi dei fabbisogni individuazione dei contesti predisposizione di linee guide e indirizzi per la programmazione sviluppo di modelli di valutazione con le attività B tutto ciò che viene definito nelle sue linee generali nella fase A e che è oggetto di approfondimento del workshop di oggi verrà calato sulle singole regioni tramite un supporto e un affiancamento dedicato alle singole regioni la riduzione dei rischi ai fini di protezione civile ha l'obiettivo di garantire l'operatività dei contesti strutturali di un sistema di emergenza in un contesto territoriale a seguito di un evento idrogeologico idraulico sismico e vulcanico e per questo viene introdotto l'indice di operatività strutturale del contesto territoriale misurare l'operatività di un contesto territoriale è importante e ha un obiettivo quello di dare una priorità un indice di operatività per ciascun contesto territoriale e un'incidenza di ogni singola componente strutturale all'interno del contesto serve individuare delle priorità tra i diversi contesti territoriali le priorità interne al singolo contesto territoriale a meglio programmare le risorse e anche un modo per valutare la performance di spesa rispetto alle risorse disponibili e messe a disposizione da altre fondi finanziarie che possono essere il rendis il silmas bonus l'articolo ungi il fesr e via discorrendo quindi misurare la performance tramite a livello di contesti territoriali i contesti territoriali sono stati introdotti appunto dal dipartimento negli standard minimi definiti il 17 dicembre 2015 laddove si è definito che la programmazione potrà pertanto contemplare anche il rafforzamento della cooperazione su aree territoriali limitrofe appunto contesti territoriali in cui le attività di pianificazione e conseguente gestione dell'emergenza si possono esercitare in modo unitario quindi l'obiettivo è di elaborare una metodologia per l'individuazione di contesti territoriali ed è quella che sarà spiegata nel corso di questo workshop che va oltre la logica del limite amministrativo del comune per un'ottimale gestione delle emergenze e dei rischi che colpiscono un territorio previa analisi dedicata e quindi sono come dire le prime applicazioni che sono nate nell'ambito del discorso dell'articolo 11 proiettate a una scala più vasta il contesto territoriale praticamente è un'aggregazione di comuni che diciamo così condividono problematiche di rischi e che condividono una struttura che ne determina la resilienza le nostre città come sapete sono un sistema di sistemi c'è il sistema della comunicazione quello dei trasporti quello della sanità quello dell'impresa quello del lavoro quello della sanità che sono tanti sistemi che si devono hanno l'obbligo di hanno un'esigenza di valutare una resilienza interna ai propri ai singoli sistemi ma anche quello che sono i collegamenti trasversali e molte di queste strutture hanno una valenza che va oltre il limite del singolo comune pensiamo solo a quello che può essere un edificio strategico quale la prefettura un ospedale che rende le proprie attività e i propri servizi per gestire un'emergenza a livello ben più ampio di quello che è la scala del singolo comune il primo luogo come diceva Agostino Miozzo dove si fa una verifica di adeguatezza di tutto questo è proprio il piano di protezione civile che sarebbe auspicabile che venga realizzato a livello di contesti e non più egoisticamente a scala di singolo comune proprio per avere una capacità di meglio indirizzare le attività questo è come dire il travaso l'applicazione di quello che è maturato con l'esperienza della CLE l'analisi delle condizioni limiti di emergenza ci ricordiamo tutti dopo il terremoto dell'Aquila l'immagine del palazzo di governo crollato che è diventato il simbolo di quella emergenza e tutti ci siamo detti non può più accadere in quel momento il governo italiano ha fatto una forte azione di prevenzione strutturale dal punto di vista sismico ma ha anche deciso che si faceva una forte azione di microzonazione sismica e di CLE cioè proprio di analisi delle condizioni che possono determinare dei problemi nella gestione dell'emergenza ci sono degli edifici che devono garantire la loro operatività altrimenti non si governa una emergenza per fare questo appunto ci siamo detti qual è il contesto in cui questi vari edifici questi vari oggetti che afferiscono ad amministrazioni differenti che spesso non si parlano tra di loro qual è il momento in cui si può fare sintesi avere una visione sistemica di quanto è importante l'uno e quando l'uno condiziona l'altro ebbene questo può essere appunto quello che avviene all'interno del contesto territoriale valutandone l'indice di operatività strutturale l'indice di operatività strutturale è un sistema per il servizio nazionale della protezione di sfile di capire se sta svolgendo bene il proprio ruolo sapete tutti che il servizio nazionale della protezione civile quindi stato regioni comuni devono esercitare la propria funzione di protezione civile che è una funzione di pubblica utilità nel rispetto dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza ecco che l'IOCT ci dà la possibilità di verificare qual è la decatezza organizzativa dei singoli contesti territoriali non solo ma se si lavora su standard e se si lavora su uniformando le procedure si facilita anche quella che è la sussidiarietà nel momento in cui c'è una calamità che richiede l'intervento sostitutivo se ci sono procedure se ci sono strutture realizzate secondo degli standard comuni l'intervento di chi sostitutivo nel rispetto del principio di sussidiarietà diventa certamente più performante ecco che con il PON governance è stato portato avanti la definizione di un indice di operatività strutturale in cui sono stati presi gli elementi fondamentali per gestire un'emergenza quindi gli edifici fondamentali le sedi del COC le connessioni le accessibilità le aree di ammassamento e le aree di ricovero e si vanno a valutare questi elementi per capire qual è l'operatività di quel contesto territoriale l'area coperta da quel diagramma esagonale costituisce l'operatività di quel contesto territoriale quindi abbiamo un modo finalmente per misurare quanto siamo operativi per gestire l'emergenza cosa che prima come dire avveniva molto a naso e ogni regione aveva la sua diversa modo di valutare la sua operatività è ovvio che in questo diagramma l'area che manca rappresenta ciò che va completato per rendere efficiente il sistema di gestione delle emergenze quindi quell'area che manca è fatta di interventi da fare di costi da realizzare e quindi di migliorare la programmazione degli interventi stabilire che piuttosto che finanziare un intervento piuttosto un altro ne finanziamo uno perché migliora la performance del contesto territoriale per affrontare le criticità del nostro territorio partivamo da una situazione che era quella che vedete qui riprodotta sulle singole fasi nel 2018 si è lavorato a testa bassi su queste attività e qui vedete tutte le attività che sono state portate avanti in questo grafico manca la Basilicata perché è entrata in corsa ma come dire si è messa subito in linea e le attività stanno praticamente anche facendo tesoro delle esperienze maturate sulle altre regioni e quindi si sta mettendo in linea con il lavoro già sviluppato sulle altre regioni perché è importante tutto questo perché come si ricordava in scenari internazionali l'UNASDR dal 2016 propone una evoluzione dell'equazione del rischio il rischio non è più l'hazard per l'esposizione per la vulnerabilità ma al denominatore viene introdotto il fattore capacità inteso come la combinazione di tutti i punti di forza gli attributi e le risorse disponibili all'interno di un'organizzazione comunità o società per gestire e ridurre i rischi da disastro e rafforzare la resilienza badate bene che l'UNASDR parla di organizzazione comunità o società e non parla di città non parla di limiti amministrativi mi parla di aggregazioni che nascono sui territori e che sviluppano la loro capacità e resilienza come si la capacità quindi che è quello che noi facciamo con il Pong Governance di sviluppo di capacità istituzionali ha un forte impatto nella riduzione del rischio perché è l'unico fattore che compare al denominatore di un'equazione come si accresce la capacità e la capacità si accresce non investendo grossi soldi come diceva il capo dipartimento sono tutte azioni di prevenzione non strutturale e quindi abbiamo innanzitutto la necessità di fare una valutazione dei rischi e delle criticità l'Europa chiede anche al Dipartimento ogni tre anni di fare un'analisi della valutazione dei rischi e ci chiede di verificare se siamo diventati più bravi di tre anni in tre anni la pianificazione urbanistica e territoriale deve essere compatibile con questa valutazione dei rischi e la deve condizionare la programmazione degli interventi deve derivare dalla valutazione dei rischi dobbiamo avere una conoscenza dell'esposizione delle vulnerabilità sempre più forte altrimenti non si può parlare di rischio rimaniamo a livello di pericolosità la pianificazione di protezione civile e le esercitazioni diventano un punto cardine il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale che sono dei concetti sanciti dal codice di protezione civile devono essere sviluppati e la pianificazione territoriale deve necessariamente essere condizionata dalla pianificazione di protezione civile così come la pianificazione di protezione civile deve essere assolutamente rivista ogni qual volta la pianificazione territoriale determina un nuovo asset del territorio e quindi un nuovo oggetto esposto i sistemi di allertamento la verifica dell'adeguatezza organizzativa sicuramente la formazione e la condivisione dei dati che ricordava anche il sottosegretario l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le norme di comportamento bisogna apprendere le lezioni e le buone pratiche che sono maturate in altri contesti e bisogna implementare le politiche nazionali del build back better cioè ricostruire medio facendo tesoro dell'esperienza del passato diffondere la conoscenza e la cultura della protezione civile coinvolgere i cittadini educandoli e rendendoli consapevoli rispetto agli scenari di rischio che sono presenti nel proprio territorio anche fornendo gli informazioni sui servizi di protezione civile disponibili all'interno di quel territorio servizi di protezione civile che non saranno mai disponibili se non si fa mente comune sul piano di protezione civile bisogna rafforzare il senso di comunità e via discorrendo tutte azioni non strutturali che con la volontà possono essere portate avanti a costi realmente contenuti ma che hanno la capacità di ridurre fortemente il rischio il capo dipartimento ricordava che il dipartimento della protezione civile focal point nazionale per la riduzione dei rischi da disastro ed è responsabile dell'attuazione della strategia internazionale di Sendai voi tutti ricorderete Sendai una città giapponese che nel marzo dell'11 marzo del 2011 fu compito da un terremoto violento magnitudo 9 che ha determinato degli effetti a scascata di tsunami di incidenti nucleari e quant'altro 20.000 morti che misero in ginocchio un paese il giorno dopo il primo ministro giapponese in televisione dovetti ammettere che era la giornata peggiore dalla chiusura della seconda guerra mondiale in Giappone quindi è chiaro che Sendai ha portato una svolta nel sistema internazionale non più parlare di gestione delle catastrofi ma di gestione del rischio di catastrofi centralizzare la prevenzione e da lì è partito ovviamente la strategia internazionale di Sendai sulla quale noi faticosamente ci esercitiamo per diffondere questa cultura di prevenzione entro il 31 dicembre 2020 anche l'Italia in attuazione del protocollo di Sendai si dovrà dotare ufficialmente di una strategia per la riduzione dei rischi da disastro e per fare questi abbiamo un continuo dialogo convochiamo tavoli non ultimo quello che il capo dipartimento anticipava del 7 febbraio per confrontarci tra questi tavoli c'è stato anche quello del 21-23 novembre a Roma sul forum europeo per la riduzione dei rischi da disastri e vorrei solo far presente che nella carta di Roma che i paesi hanno sottoscritto è espressamente riportato tra i tanti punti il rafforzamento dei meccanismi di governance e la fornitura di linee guide buone pratiche per garantire una gestione efficace ed efficiente del rischio di catastrofi l'uso di valutazioni del rischio di catastrofi come prerequisito per gli investimenti infrastrutturali nonché la realizzazione di misure complementari per incentivare gli investimenti nella resilienza esattamente ciò che facciamo col PON governance quindi come dire in questo campo abbiamo anticipato degli obiettivi che con la carta di Roma la comunità internazionale si è data io con questo ho finito l'introduzione sui concetti che poi saranno approfonditi nel proseguo come proseguiranno i nostri lavori proseguirà un'illustrazione della metodologia per i contesti territoriali e le valutazioni dei colleghi Bramerino e Corazza poi nel pomeriggio parleremo di standard minimi e ambiti territoriali ottimali con il collega Luigi D'Angelo e poi seguirà un dibattito con le regioni che fanno parte del PON allargato a tutte le altre regioni che sono oggi qui presenti e che volutamente sono state invitate per cominciare a porre a base comune le informazioni e le conoscenze che il PON hanno consentito di realizzare domani invece entreremo nel merito delle singole linee di attività quindi un profilo più strettamente tecnico ma vi consiglio di rimanere e di seguire anche la giornata di domani perché come dire si entra in un merito tecnico e i risultati sono veramente accattivanti e interessanti e possono veramente essere messi a base comune per tutte le regioni d'Italia io ho finito non mi rimane che ringraziare le tante persone che hanno reso possibile l'attuazione di questo PON Governance 2014-2020 non mi consentirete di ricordare in particolare il collega Biagio Costa che ci ha lasciato e che è stato uno degli artefici della realizzazione del nostro programma PON Governance 2014-2020 grazie a tutti per l'attenzione grazie Italo do di nuovo la parola a Angelo Borrelli capo protezione civile per un saluto visto che deve lasciare per impegni grazie ancora Paolo adesso è previsto il break ma io vi lascerò non ci sarò nella seconda parte di oggi ci saranno i colleghi perché abbiamo da lavorare soprattutto sui provvedimenti normativi che riguardano il post terremoto di Catania quindi io ho un'agenda fitta nel pomeriggio e anche domani quindi vi lascio in buone mani nelle mani dei colleghi e del padrone di casa Paolo Messina che ringrazio nuovamente per la sua grande disponibilità grande supporto che ha sempre dato a partire dalle attività della microzonazione sismica alle attività del PON GO grazie grazie a tutti grazie Angelo sempre molto gentile e molto buono quindi adesso c'è un coffee break di mezz'ora siccome siamo in anticipo ci diamo appuntamento alle 11.50 quindi con 10 minuti di anticipo rispetto rispetto al programma per la prosecuzione dei lavori grazie a tutti 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 grazie a tutti